Scrittore e giornalista Luigi Caricato, oleologo pugliese di adozione milanese, ha preso parte all'Expo di Milano allo spettacolo televisivo The Cooking Show. Un'occasione per parlare della sua ultima creatura, il suo Atlante degli oli italiani, libro che percorre l'Italia regione per regione senza trascurare le aree produttive estreme, Piemonte e Valle d'Aosta. Il creatore dell'olio Officina Food Festival, autore di tanti volumi dedicati al prodotto principe delle olive, ai microfoni del TG Norba 24, ha fatto il punto sul valore della presenza dell'olio a Expo. La Puglia è la regione italiana che produce l'olio, nel senso che l'ultima olivagione del 2014 si è contraddistinta per la produzione del 60% di tutto l'olio presente in Italia. Questo sta a significare che è la regione regina, quella che determina, quella che in qualche modo crea un po' le condizioni di mercato. Quello che manca alla Puglia è soprattutto una presenza scenica. Ecco, occorre cercare di trovare nella Puglia l'elemento fondante e quindi non essere più una regione serbatoio per le altre regioni, ma essere una regione forte. Ecco, l'idea che oggi si sta affacciando di un olio che sia a indicazione geografica protetta a Puglia, questa è una carta vincente, se lo strumento viene utilizzato nella maniera più opportuna, per lanciare l'olio pugliese nella sua identità più vera e non un olio che invece entra nelle bottiglie di tutte le regioni. Grazie. 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 Grazie.